Ben trovati. Primo passo, il contesto di questi giorni. Nel capitolo 15 di Luca abbiamo visto che il padre non vuole perdere nessuna delle sue creature. La sua gioia è ritrovare ciò che si era perduto. Nel capitolo 16 abbiamo visto un amministratore che ha perso il suo impiego ma riesce a cavarsela procurandosi degli amici con la disonesta ricchezza. Il contesto di questi brani quindi parla di ciò che è perduto. Se questo è il contesto, perché Gesù ora ci parla di legge e di regno, di matrimonio e di adulterio, cosa c'entrano queste parole? Non sono fuori luogo. Forse Luca si è sbagliato a inserirle qui. In realtà nostro Signore sta continuando a parlare di ciò che non va perduto né presso gli uomini né presso Dio. Secondo passo, la legge e il regno. Il regno che Gesù annuncia supera ma non sopprime la legge e si guarda bene dal perderla. Come sappiamo la legge non ha il potere di renderci giusti, così come ci dice Paolo nelle sue lettere. Il regno però è il luogo nel quale i figli finalmente adempiono la legge, ma la adempiono da figli nel regno del padre loro, non da sudditi di un regno qualsiasi. Lo fanno grazie allo Spirito Santo, cioè lo fanno nel respiro del figlio, non nell'apnea dello schiavo. Terzo passo, lo sposo amante. Nel brano si parla di adulterio. Spesso i profeti paragonano Israele a una sposa adultera, ma il Signore, benché tradito, non ripudia la sua sposa perché ne è innamorato e l'ama profondamente, con tutta la tenerezza del suo cuore. Anche noi con le nostre idolatrie non veniamo ripudiati, ma veniamo ricercati da questo stesso sposo innamorato. Gesù quindi non è venuto per abolire la legge, ma per affiancarle la grazia. Essa, la grazia, ci dice che noi, proprio perché figli, siamo amati prima ancora di obbedire o disobbedire alla legge. Per questo la grazia è più grande della legge. Il Signore, oltre a realizzare la legge, la supera perché Lui ci ha amati non solo come se stesso, ma ci ha amati più di se stesso. Ci ha amati mentre eravamo ancora nemici e peccatori, così come dice Paolo nella Lettera ai Romani. È salito sulla croce ed è disceso fino agli inferi, apposta per venire a cercarci, là dove ci eravamo cacciati. Si capisce quindi che lo sforzo per entrare, di cui parla il versetto 16, non indica quanto è difficile strappare a Dio i suoi beni, ma indica la fatica che noi facciamo per arrenderci a questo amore, la fatica di lasciarci servire dall'amore di Dio, così come dicevamo ieri. Lasciarci servire da Lui significa fidarsi ed accogliere il suo amore su di noi e in noi, nella trama concreta della nostra esistenza. Solo l'esperienza di questo amore ci libera dalle nostre idolatrie, che ci impongono schiavitù e sacrifici umani. Possiamo chiedere a Maria di aiutarci in questo, lei lo ha già vissuto per prima.